Musica Cominciamo con i primi artisti, loro sono dei giovani talenti napoletani e pensate che fanno il loro esordio proprio stasera qui su questo palco incrociando le dita per loro, vi facciamo un ghiasso in bocca al gruppo diretti da Maestro Carlo Morelli, il cuore delle voci di Napoli Piazza Vittoria 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 Piazza Vittoria